Quartiere Paolo VI via 4 novembre sono alla fermata del bus. Scusate ma un cittadino che deve prendere il bus come deve fare? Allora uno non può stare qui perché se no starebbe tra la sterpaglia, tra i rifiuti e non penso che sia una cosa logica stare qui tra i rifiuti. Quindi c'è un pezzettino di strada ma invasa dai rifiuti. Potrebbe stare sulla soglia, potrebbe stare sul ciglio del marciapiede col rischio di essere travolto. E non sto dicendo chiacchiere, guardate, qui non è che c'è stata l'idea di creare una pensilina, di fare qualcosa, di dare un minimo di vivibilità. Guardate un po', cara presidente del CDA di Chima Mobilità Amat, avvocatessa Giorgia Gira. Intervieni e lo dico a te, cara Gira, perché tu non sei nuova come presidente dell'AMAT. Già lo eri, lo sei stata prima ancora di Spalluto, quindi nella precedente amministrazione Melucci. Caro Mattia Giorno, assessore alla mobilità sostenibile, te la profumi tanto, fai tanto il fighetto con le BRT, con questo, con quest'altro. Devi dare risposta ai cittadini di Paolo VI che prendono il pullman qui, nella merda. Questa non è una fermata, questo accade nei paesi del terzo mondo. E tu, Mattia Giorno, parli di BRT, te ne vai a Parigi per vedere i bus nuovi di Zecca da comprare, salvo poi i bus che o si incendiano o fanno frequenti avarie in varie zone della città. Ma qui penso che sia, come dire, l'esempio lampante, l'esempio lampante. Immaginate cosa accade d'inverno con la pioggia ed estate, lo vivete, lo vedete voi stessi con il caldo. Non c'è una pensillina, non c'è nulla. Ma almeno ci fosse un pezzetto di strada, un punto in cui aspettare. Che dobbiamo stare? Nell'erba, tra i ratti, le vipere e gli insetti. Ma questa è una città civile, Belucci. Questa è la svolta, la rinascita. Sento quell'altro Emiliano che parla della nuova bellezza che stanno vivendo i Tarantini. I Tarantini stanno vivendo nella merda, caro Presidente Emiliano. Nella merda, e questa è merda, merda, come lo devo dire? Vi dovete scandalizzare delle mie parolacce e scandalizzatevi pure, non me ne frega niente. Io devo dare risposta ai cittadini, non devo dare risposta a voi comodamente seduti in poltrona, con il climatizzatore. Guardate qui, guardate. E questo è rispetto per il cittadino? E questa è garanzia per la sicurezza? Mi girano le scatole quando sento Mattia Giorno che parla di BRT, di questi collegamenti. Questa è la vera immagine di Taranto, la città del terzo mondo. Una condizione in cui voi, signori dell'amministrazione Melucci, l'avete ridotta. E dimostratemi il contrario, dimostrate. Dimostrate la signora Maria che deve buttare qui il sangue con le buste della spesa, ad abbrustolirci sotto il sole, a stare tra la sterpaglia, tra gli insetti, tra i ratti. Questo è rispetto della dignità umana? Questo è terzo mondo, caro Melucci? Terzo mondo, vergognati! Grazie a tutti!